Lo dice a suocera per farlo arrivare a noi. Però secondo me lo dice quell'altro che è rimasto a casa con un mese oggi. Allora, tutti siamo andati a più o meno a scuola, abbiamo preso la nota, abbiamo dato un giorno di sospensione, no? Ti ricordi? Sospetto. No, io mai sinceramente. Mai preso la notte. Mai preso un giorno di sospensione, mai. No, io una volta ho dato un pugno a uno e mi hanno sospeso un giorno. Sì, ma tu l'hai dato anche recentemente, quindi tu hai dato un pugno, hai spinto uno il consiglio comunale, abbiamo parlato di te. No, però poi dopo è stata sistemata quella decisione, voi te la racconti in breve. Sistemata, vai a scelta con il mio occhio. Visto che hai fatto questa parentesi, noi andiamo un attimo in pubblicità, tu ci dici che posso il consiglio comunale e poi torniamo con i carri. No. non è quello, non è qualcosa